Facciamo errori di comunicazione non solo nelle relazioni esterne all'azienda, per esempio quando mandiamo in confusione i nostri clienti, ma anche nelle relazioni interne. Facciamo un esempio. Viene da me il mio dirigente e mi chiede come è andato l'incontro ieri con i clienti. Bene, tutto bene, tutto a posto. Cioè? Cosa vuol dire? Puoi entrare per piacere nei dettagli? Questo è un errore che ha a che fare con la quantità. È uno dei quattro principi che vediamo oggi. Partiamo allora da quattro errori di comunicazione professionale per arrivare ai quattro principi, o meglio, quattro massime conversazionali di Paul Grice. Paul Grice è un filosofo del secolo scorso che si è occupato di pragmatica e di filosofia della comunicazione della quotidianità. Della quotidianità è a noi interessa perché ogni giorno noi abbiamo a che fare con clienti, collaboratori, i colleghi e ogni giorno instauriamo una conversazione. Questo è un principio fondamentale. Allora voi potreste dirmi, ma come una conversazione? Non è vero perché, per esempio, per esempio, quando io presento davanti ai miei collaboratori, con le slide, la nuova politica aziendale per i prossimi mesi, ebbè in quel caso non è una vera conversazione perché sto facendo una semplice presentazione. Ho i miei slide, ho i miei contenuti e questi sono questi di mando. Però attenzione, in realtà è quello che ho appena fatto. Cioè, stavo parlando e ho ipotizzato una vostra obiezione. Quindi ho ipotizzato una conversazione. In realtà sono da solo in questa stanza, sto guardando il pertugino della videocamera e sto immaginando di conversare con qualcuno. Vedete, la stessa cosa noi la possiamo fare in qualunque situazione in cui stiamo comunicando con le persone. Anche quando pensiamo che le persone non debbano realmente interagire, fisicamente interagire con noi. Lo vediamo allora con le quattro massime conversazionali. Se non mi conoscete, io sono Stefano Todeschi, sono consulente, formatore in Public Speaking Pratico. Per me il Public Speaking Pratico è il Public Speaking per manager e imprenditori appassionati. appassionati nella comunicazione, appassionati di quello che stanno facendo. Bellissimo. Se volete potete seguirmi qui, potete seguirmi su Instagram e sul mio canale Telegram. Quattro massime conversazionali. Primo errore, la quantità. Eh, l'abbiamo visto prima. Ti faccio una domanda, ti chiedo come è andato l'incontro ieri con i clienti e tu mi rispondi bene tutto a posto. Troppo poco. Significa allora che ci sono due estremi nella quantità, due estremi sbagliati. Beh, il primo è dire troppo poco, eccesso di brevità, eccesso di sintesi. L'altro principio è il profluvio di parole infinite. Per esempio quando stiamo presentando un prodotto ai clienti e diamo troppi dettagli. Supponiamo di essere un'impresa che vende gestionali per le società. Bene, allora spieghiamo quali sono i vantaggi del nostro gestionale rispetto ai gestionali dei competitor. Che cosa diamo noi in più? Ma ad un certo punto cominciamo ad entrare in certi dettagli e cominciamo a dire, quando è entrata nella schermata iniziale noterete che ci sono due campi. Il primo campo riguarda questo, il secondo campo riguarda quest'altro, poi sotto c'è un pulsante. No, 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 troppo, troppo. Diventa troppo e quindi la quantità è eccessiva per due ragioni. Primo perché fisicamente è troppo, quindi ci sono troppi contenuti e chi ascolta risca di andare in confusione. non sa, cioè, quali sono i reali pilastri importanti che sostengono il prodotto. Ma l'altro principio del troppo è che è troppo e troppo presto. Questo lo vedo con i miei clienti, quando li seguo. Si lasciano sfuggire spesso l'opportunità di lasciare dei sospesi, di lasciare delle curiosità da parte dei clienti. Ma se il cliente ha una curiosità che io volutamente ho lasciato sospesa, ebbene a quel punto il cliente mi farà una domanda. E allora ecco che si instaura una vera e propria conversazione, un dialogo, è attivo, il cliente è attivo, e quindi è coinvolto, cioè è volto verso di me. E questo è fondamentale per rendere bella la relazione, la relazione umana prima che professionale, e quindi di conseguenza la relazione professionale. Quindi quantità opportuna, e lo vediamo con un principio alla fine, la quantità opportuna, come possiamo determinarla. Seconda massima conversazionale, la qualità. Ricordo che durante una formazione c'erano 40 persone e una di queste alzò la mano e gli chiese Stefano, c'è un problema. I miei manager mi stanno chiedendo di fare affermazioni che io so non essere corrette, cioè di dare dati che non corrispondono alla realtà, perché sono stati inventati lì per lì per sostenere la nostra idea. e la domanda era Stefano, come posso arrivare a dire con più sicurezza questi contenuti, quindi fare queste affermazioni anche se so che i dati non sono corretti? Quindi, in principio, era che questa persona mi stava chiedendo come parlare con più sicurezza facendo affermazioni false. Ecco, qui stiamo parlando di una qualità della comunicazione pessima, la falsità. E questo è uno dei due sottoprincipi che hanno a che fare con la qualità. Non posso dare informazioni false. Facciamo un esempio che ha a che fare con la comunicazione. L'avrete sentita tante volte questa affermazione falsa secondo la quale sull'interlocutore inciderebbe per il 55% il linguaggio paraverbale, cioè come diciamo le parole. Per il 38% il linguaggio non verbale, quindi la gestualità, la prossemica, la postura, la posizione rispetto alle persone. E solo per il 7% il linguaggio verbale, cioè le parole. Ora, questa affermazione è falsa, viene da una ricerca di Merabiene, ma era fortemente circostanziata, quindi non ha a che fare con qualunque tipo di comunicazione. perciò è sbagliata, è falsa, sappiamo che è falsa. Un comunicatore deve sapere, o una persona che si occupa di comunicazione, deve sapere che questa informazione è falsa e se la reitera ugualmente sta commettendo un grave errore. Ma attenzione, la qualità ha anche una sfumatura diversa, cioè io posso dare delle informazioni che non ho circostanziato a sufficienza, cioè insomma non ho dati sufficienti per poterle corroborare. Facciamo un esempio, che potrei dire che un messaggio può arrivare con più o meno forza a seconda della forma che io utilizzo, a seconda per esempio di come vado a elaborare le parole quindi del linguaggio paraverbale. E un buon linguaggio paraverbale può incidere sull'efficacia per almeno il 50%. E poi c'è il linguaggio verbale. Ma attenzione, io ho parlato di percentuale. Ho una ricerca scientifica forse che parli di questa percentuale? Ho condotto una ricerca anche veloce classificando quindi le risposte da parte dei miei interlocutori, andando a costruire una tabellina. I numeri sono numeri, le percentuali sono percentuali. Posso eventualmente dire invece che è importante come diciamo le parole. Potrei dire che è addirittura determinante come diciamo le parole. ma devo avere la certezza quando io do delle percentuali. Non basta il mio sentimento. Terza massima conversazionale ha a che fare con la relazione. Facciamo un esempio. In questo periodo io sto cercando un'auto nuova e quindi sto cercando un modello che possa essere utile per andare in montagna. Bene, quindi per poter fare, per poter arrampicare delle salite. Se il venditore mi viene a dire che va bene, va benissimo, questo modello va benissimo per arrampicare in montagna e poi è fantastico anche per la città perché lo puoi parcheggiare dove vuoi. No, non è pertinente, non ti ho chiesto questo. O per lo meno, per il momento non te l'ho chiesto. E potrebbe continuare, lei interessa quindi un'auto che possa essere parcheggiata facilmente in città? Ma adesso me lo chiedi, troppo tardi, mi hai già dato una informazione che non è in relazione con ciò che ti ho chiesto io, ti ho chiesto semplicemente un'auto che possa arrampicare in montagna. Eventualmente chiedimi se ho bisogno di altre caratteristiche perché per esempio la parcheggiabilità, si può dire parcheggiabilità, non lo so, ma lo utilizzo. Quindi aspetta darmi informazioni, aspetta di avere abbastanza informazioni per potermi dare a tua volta informazioni che siano pertinenti e questo è il principio di relazione o massima conversazionale di relazione. Quarto principio fondamentale, il principio o massima conversazionale di modo. Graes distingue quattro sottocategorie a proposito del modo e sono fondamentali per rendere migliore il messaggio. Primo sottoprincipio della quarta massima conversazionale di modo consiste nella chiarezza. Evitiamo allora l'oscurità. Facciamo un esempio. Se io vi dico non dobbiamo pensare che non sia sempre opportuno non parlare brevemente ecco che io sono oscuro non dobbiamo pensare che non sia sempre opportuno non parlare brevemente ma non potrei semplicemente dire che a volte si può parlare anche in modo non breve a volte possiamo anche dilungarci molto più semplice molto più chiaro molto più pulito. Sottoprincipio numero due evitiamo l'ambiguità. Il primo esempio di ambiguità che mi viene in mente è quando utilizziamo i proverbi. A volte possono chiarire ma in realtà in molte situazioni rendono ambiguo cioè ambivalente cioè non sappiamo bene se tu stai da una parte dall'altra o quale sia il tuo reale messaggio. Per esempio io potrei dire in una situazione un po' critica tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino. Ma cosa vuol dire? Mi vuoi spiegare cosa vuol dire questa cosa? In che senso? dov'è questo lardo? E poi perché ci dovrei lasciare lo zampino per piacere? Dimmi di più chiariscimi anzi guarda a questo punto mi viene voglia di dirti tanto va la gatta al lardo che se lo mangia. Cerchiamo di evitare queste frasi fatte cerchiamo di evitare questi proverbi a meno che non sia una provocazione ironia scherzo per cui successivamente in realtà andiamo a chiarire se io devo dire che una rondine non fa primavera non vuol dire niente di per sé ma lo posso collegare con il fatto che non so più quale sia la primavera perché a causa degli sconvolgimenti climatici non so più quando rivedremo le rondini quando se ne andranno quando ritorneranno chissà se lo sanno loro è un modo semplicemente per agganciarmi con un proverbio andarlo a a proposito del clima terzo principio che ha a fare con il modo la brevità cerchiamo di essere brevi un po' l'abbiamo visto con la quantità all'inizio adesso abbiamo anche uno strumento pratico come fare per essere brevi io devo dire una serie di concetti e fra un po' vedremo anche come metterli in ordine devo dire una serie di concetti e quando ho detto un anticipato l'ordine dobbiamo dare un ordine ai nostri contenuti bene come facciamo a stabilire l'ordine perché questa è una delle domande che ricorrono di più quando seguo le persone perché è una delle angosce maggiori angosce da esagerato comunque si è uno dei cruci maggiori come metto in ordine i miei contenuti e bene pensiamo alla situazione in cui stiamo interagendo con un cliente torniamo all'automobile ampliamo l'esempio io sto cercando un'automobile che possa arrampicare sui montagna però attenzione io non vorrei un fuoristrada perché non mi va di avere questo mezzo così grosso mastodontico non mi piace preferisco che sia un'auto che io possa anche parcheggiare facilmente in città sì ho stravolto l'esempio di prima allora il venditore a questo punto potrebbe utilizzare almeno due criteri di ordine facciamo bene attenzione uno è semplicissimo cioè rispettare esattamente il mio ordine allora guardi per quanto riguarda l'arrampicare in montagna e allora mi spiega e questo non è necessario che sia un fuoristrada possiamo evitare il fuoristrada e capisco anche le sue buone ragioni perché lei mi ha detto che il fuoristrada x y z allora andiamo su un'auto che sia anche da città e quindi le consiglio a questo punto e ho rispettato esattamente l'ordine del mio interlocutore guardate che è lo stesso principio che si poteva utilizzare a scuola quando svolgevamo il tema c'era una traccia era semplicissimo rispettare l'ordine stabilito dalla traccia nei vari concetti che avremmo dovuto sviluppare ma vediamo anche il secondo criterio vi ricordate tornando a scuola quando parlavamo del chiasmo adesso adesso ve lo faccio venire in mente il chiasmo era una struttura A B B A quindi un concetto iniziale un secondo concetto approfondivo il secondo concetto e riprendevo il concetto iniziale è molto bello perché si tratta di una evidente struttura a cerchio che va a chiudere con l'inizio perciò in questo caso che possa arrampicare che sia un fuoristrada che non sia pardon un fuoristrada non lo deve essere e che sia un'auto facilmente parcheggiabile bene vado a chiasmo ribalto allora rispondo parlando subito del parcheggio facile in città evitiamo allora allora i fuoristrada eppure ti do un'auto che possa arrampicare questi sono i quattro principi i quattro massimi anzi conversazionali di Paul Grice ma noi possiamo commettere degli errori quando parliamo cioè possiamo parlare troppo possiamo parlare poco possiamo essere oscuri sentiamo che abbiamo un'ambiguità ecco sentiamo una parola fondamentale quando ci succede questo allora possiamo farci una domanda fondamentale perché sto facendo confusione perché sto commettendo questi errori di comunicazione perché troppo breve o troppo lungo perché non ho risposto in modo pertinente al cliente forse perché in realtà io non ce l'ho quel prodotto ma allora non era sufficiente essere più chiare e dire guardi il prodotto non ce l'ho o altre cose mi sembra di capire che eccetera eccetera e quindi significa che questi questi principi queste massime sono anche utili per aiutarci a comprenderci di più quando noi facciamo il nostro lavoro quindi parliamo con i collaboratori parliamo anche con gli altri imprenditori parliamo con i clienti abbiamo modo di comprenderci di più abbiamo modo di chiederci ma sono davvero convinto di quello che sto dicendo ci credo mi piace davvero mi piace il modo in cui sto presentando quello che sto presentando mi piace davvero la risposta che sto dando sto davvero entrando in relazione con i miei collaboratori e le mie collaboratrici sto davvero creando delle opportunità l'indagine personale è sempre fondamentale per arrivare ad una comunicazione appassionata allora a questo punto la domanda è se una persona mi fa una domanda come posso rispondere in modo pertinente come posso rispondere in modo chiaro e soprattutto rispondere subito anche improvvisando allora potete vedere questo video qui sopra e poi se anche voi volete lavorare in consulenza con me e volete che io vi segua nella vostra comunicazione dentro e fuori l'azienda ecco che qui c'è l'altro link e qui potete avere tutte le informazioni che volete è un lavoro impegnativo? Sì è un lavoro impegnativo lo ammetto a presto ciao ciao